La Fontaine forse non è il mio autore preferito di fiabbe, ma è un buon pretesto per dirvi leggete fiabbe ai bambini. Raccontategli quelle della tradizione, prendete i libri dei fratelli Grimm, di Anderson, leggete le fiabbe nella loro versione originale. Leggete, non date un'app dove viene raccontata, non date un libro con le immagini delle storie, perché i bambini devono farsi una propria idea degli orchi, dei mostri, di tutte le brutture che le fiabbe raccontano, perché servono a dar loro una visione coraggiosa della vita, servono a sedare le proprie paure interne e servono a rispondere a tutte le domande tragiche che i bambini nel loro inconscio si pongono. Leggete le fiabbe ai vostri bambini, tutti i giorni, tutte le sere.